Amici blucerchiati, bentornati sul canale YouTube di Meme of Sampdoria. Si avvicina il ritorno in campionato. Nell'ottava giornata Amarassi la Samp ospiterà il Bologna di alcune vecchie conoscenze blucerchiate come Sinisa Mijailovic, Lorenzo De Silvestri e Roberto Soriano. Noi andiamo a chiudere questo trittico di video dedicato all'analisi dell'avvio del campionato della Samp le prime sette giornate della stagione 2020-2021 di Serie A, reparto per reparto. Abbiamo già parlato della difesa del centrocampo, oggi ci concentriamo sul reparto offensivo e se diciamo attacco e Sampdoria queste due parole hanno un nome e un cognome, cioè Fabio Quagliarella. Iniziamo da lui, Fabio Quagliarella, quattro gol in campionato nelle prime sette, tra l'altro quattro gol realizzati in quattro partite consecutive, si è sbloccato contro il Benevento, è andato in gol a Firenze su rigore che lui stesso si è procurato, poi a segno anche in casa contro la Lazio e a Bergamo contro l'Atalanta, dove un rigore invece l'ha sbagliato. Fabio Quagliarella, 37 anni, conferma comunque sempre di essere un punto cardine di questa squadra. I gol di Bergamo e quello in casa contro la Lazio sono sempre da attaccante vero. Per quanto riguarda invece il resto della partita, quello che accade fuori dal suo habitat naturale, cioè dall'area di rigore, sta soffrendo un pochino Fabio Quagliarella e non esclusivamente per colpe sue. Si sta riproponendo un po' la dinamica che era apparsa l'anno scorso quando Eusebio Di Francesco, schierandosi con tre punte, quindi con un centravanti, Quagliarella e due esterni larghi, aveva un po' isolato l'attaccante Stabiese. Questa cosa si sta ripetendo quest'anno perché l'intenzione di Claudio Ranieri è di mettere una punta. Quagliarella, vincino a Quagliarella. Così aveva fatto nel inizio di campionato mettendogli Bonazzoli vicino. Mettiamo da parte la partita contro la Juventus in cui addirittura era partito il solo Bonazzoli titolare con Quagliarella in panchina, ma quella era una scelta tattica per mettere un centrocampo a 5 più coperto contro la squadra di Pirlo. Poi contro il Benevento, nella partita successiva, la coppia titolare era Quagliarella-Bonazzoli. Bonazzoli poi sappiamo che è stato portato dal mercato a scegliere altre strade e quindi Quagliarella si è trovato senza un partner d'attacco. Gioca vicino a lui, o meglio dietro di lui, Gaston Ramirez, che però è un trequartista, ha l'anima da centrocampista e quindi tende a girargli spesso molto a largo, preferisce abbassarsi verso il centrocampo per associarsi con la mediana blucerchiata. Finora Keita è stata un'alternativa a Quagliarella, nelle intenzioni di Ranieri, il mister romano l'ha anche detto in una delle interviste, c'è l'idea di farli giocare insieme. Speriamo succeda il più possibile. Per ora il partner d'attacco, se così possiamo dire, sulla carta è stato Gaston Ramirez. Allora iniziamo a parlare anche del fantasista Uruguaggio, che ormai abbiamo imparato a conoscere la sua quarta stagione in blucerchiato. Nelle prime sette giornate abbiamo visto il solito Ramirez, cioè un giocatore un po' discontinuo, capace nella stessa partita di passare dall'irritante al sublime. Sempre utile tatticamente, anche spesso gratuitamente, un pochino nervoso. Ranieri lo utilizza anche per la sua capacità di andare a prendere il regista avversario, e l'ha fatto secondo me molto bene nel match contro la Fiorentina, andando a inibire Amrabat, che aveva il compito di iniziare, avviare l'azione dei viola di Iachini. A Gaston Ramirez imputiamo qualche palla persa di troppo, soprattutto quando la squadra è in uscita. Ramirez comunque con questa grande tecnica cerca sempre anche la giocata di fino, il tunnel, il tacco, a volte non sempre gli riesce. Sono palle pericolose da perdere nei pressi della propria tre quarti campo. Da qui in poi probabilmente avrà tanta concorrenza, perché Scalpi Taverre, nello stesso ruolo di centrocampista avanzato dietro Quagliarella, torneranno, speriamo, il prima possibile, Manolo Gabbiadini e Keita Balde. Sarà difficile vederlo in altri ruoli, parliamo sempre di Gaston Ramirez, è vero che l'uruguagio si è adattato, lo abbiamo visto anche in altre collocazioni tattiche, per esempio ha fatto l'esterno a destra anche l'anno scorso, sia nel tridente di Francesco, sia nel centrocampo a quattro di Ranieri, ma anche lì è una zona in cui la Sampa è coperta con Candreva e Ianto esterni di ruolo. Quindi vedremo quanto spazio riuscirà ad avere ancora Gaston Ramirez, giocatore in ogni caso molto utile, perché porta anche fisico e centimetri nella Sampa, nel reparto offensivo blucerchiato. Abbiamo detto che scalpitano come potenziali partner di Fabio Quagliarella altri giocatori, tra questi Keita Balde, che è la grande speranza nel reparto offensivo blucerchiato. Fin qui l'abbiamo visto poco, per i notti problemi fisici contro l'Atalanta e nel derby, abbiamo intravisto le possibilità e che cosa può aggiungere Keita Balde a questa squadra. Qualità, dribbling, esplosività, velocità. Davanti è l'unico giocatore, secondo me, che ha lo spunto per creare la superiorità numerica, saltando l'uomo e scappando, lanciato in velocità. Fino a qui l'abbiamo visto come alternativa a Fabio Quagliarella in alcuni spezzoni di partita, quindi ha fatto la prima punta, non esattamente la sua migliore veste, ma l'ha fatto discretamente, soprattutto nel derby in una partita offensiva, giocata dalla Samp, in cui ha ricevuto palla, spalla e la porta, la difesa bene, ha creato grossi grattacapi alla retroguardia a rosso-blu. Può essere importante lui per la Samp, può essere importante anche la Samp per lui, secondo me questa per Keita è un'occasione molto ghiotta per la sua carriera, visto che è il primo caso in cui in Italia parte come potenziale titolarissimo. Keita è un giocatore che se sta bene in questa Samp gioca titolare e nelle sue precedenti esperienze alla Lazio e all'Inter non gli era mai capitato di essere, era sì nelle rotazioni, ma anche lì per i problemi fisici, soprattutto quando era all'Inter, faceva fatica a partire sempre da titolare. L'altro rientro che aspettiamo con ansia, direi, è quello di Manolo Gabbiadini, che l'anno scorso è stato decisivo, secondo me è un pochino sottovalutato, il suo apporto alla fine 11 gol, alcuni di questi molto pesanti, penso ovviamente al gol nel derby d'andata, aveva segnato anche nel derby di ritorno, anche se non è servito, ha segnato andata e ritorno contro l'Udinese, ha fatto un gol molto bello, pesante, anche se alla fine inutile, all'Olimpico contro la Roma. Quest'anno l'abbiamo visto per sei minuti e in sei minuti contro il Benevento, quando era entrato sul risultato di 2-2, ha preso un palo di testa su cross di Augello. E secondo me la spalla ideale per Quagliarella, è una seconda punta, in carriera ha fatto anche l'esterno del tridente con Mijajlovic alla Samp, ha fatto la prima punta con Sarri al Napoli, ma quello non è, secondo me, il suo pane. E poi, insomma, è un giocatore che abbiamo imparato a conoscere il suo sinistro da qualunque posizione, può essere un jolly anche nelle partite in cui si fa molta fatica a creare occasioni offensive. Chiudiamo il reparto offensivo con Antonino Nino Lagumina, l'abbiamo visto molto poco, soltanto nella partita di Coppa da titolare contro la Salernitana in uno scampolo un quarto d'ora scarso a Cagliari, a giochi ormai decisi, al posto di Fabio Quagliarella. È evidentemente in fondo alle gerarchie di Claudio Ranieri per quanto riguarda il reparto offensivo. Prova ne sia, oltre allo scarso utilizzo, anche il fatto che contro la Salernitana, nella partita che in teoria lui doveva sfruttare al massimo per mettere dubbi e togliere certezze, in questo senso a Ranieri, Ranieri all'inizio lo ha messo come esterno sinistro di un centrocampo a quattro con Verre trequartista dietro a Keita. Poi durante la partita lo ha spostato più centrale, più avanzato, Lagumina è stato bravo a farsi trovare pronto e a realizzare il gol decisivo che ha permesso alla Samp di battere i campani e passare il turno in Coppa. È quello che per caratteristiche è il più centravanti, classico, dal punto di vista fisico, è quello proprio, è la prima punta tipica, e quindi io sarei anche curioso di vederlo magari nel prossimo incontro di Coppa Italia vicino a Fabio Quagliarella, gli può togliere un po' di lavoro che fino a qui il centravanti campano si è dovuto sobbarcare. Ora però, con i ritorni, dicevamo sempre, ce le auguriamo a disposizione di Manolo Gabbiadini, che Tavalde sarà ancora più dura per l'attaccante ex Palermo ed Empoli mettersi in mostra. Paradossalmente le cose migliori le abbiamo viste fare da avversario della Samp quando giocava nell'Empoli. Si guadagnò un rigore in un Empoli-Sampdoria del dicembre 2018 per fallo di Murro, poi la Samp vinse quella partita grazie ai gol di Quagliarella Ramirez e la doppietta di Caprari. È tutto, direi che abbiamo fatto un quadro abbastanza esaustivo di questo inizio di campionato soddisfacente della Sampdoria che però deve, ci auguriamo, avere un seguito nel resto del campionato che, come detto all'inizio, riparte domenica con questo Sampdoria-Bologna delle ore 15 poi ci sarà il derby giovedì alle 17, il derby di Coppa Italia e il prossimo incrocio in campionato è quello invece di lunedì prossimo, lunedì pomeriggio contro il Torino di Marco Giampaolo. Come sempre aspettiamo i vostri commenti qui sotto seguitici sui nostri profili Instagram e Twitch grazie a tutti per l'ascolto a presto ciao